Ciao a tutti, oggi ci troviamo nei pressi di Lane Pool Reserve, che è una riserva naturale ricca di piscine di acqua dolce. Siamo qui perché ci hanno segnato una nuova specie di orchidea da studiare, in particolare stiamo studiando la strategia per attraire gli insetti in pollinatori. Quando siamo a contatto con questo tipo di studi e di ricerche, per noi è un lavoro di immersione totale nella foresta e si crea una vera connessione con la pianta che stiamo studiando e con quello con cui la pianta si connette, quindi in questo caso i suoi impollinatori. Quindi per noi è come un po' mettersi nei panni, calarsi nei panni di questa orchidea e cercare di addentrarsi un po' nel suo regno. Grazie all'osservazione all'ascolto, cerchiamo di capire quali sono queste strategie che risiedono nel successo di questa orchidea. Perché è un successo? Quando riesce ad attirare i suoi impollinatori, gli insetti, l'orchidea può garantirsi la riproduzione e quindi assicurarsi il suo posto nell'ecosistema. Questa orchidea in particolare non produce nettare come già altre orchidee che abbiamo precedentemente studiato e quindi la strategia che adotta è un inganno, insomma viene chiamato. Non producendo nettare cosa fa? Imita altre piante che producono nettare. Queste altre piante siamo qui oggi per capire quali sono. Per ora abbiamo solo delle ipotesi. Dobbiamo addentrarci ancora in maniera più approfondita per capire se queste ipotesi sono fondate, se queste sono le piante che l'orchidea imita. Per ora abbiamo anche un sentore di quale può essere l'impollinatore. Ma abbiamo bisogno di altri test e quindi abbiamo bisogno di spendere molto più tempo nell'osservazione. Però quello che possiamo dirvi è che quando siamo qui e ci immergiamo in questa realtà nascono, si parte come dire, si parte alla scoperta di una domanda ma quando si arriva qui e nascono ancora, si apre un altro mondo, quindi da una domanda se ne aprono una decina e così via. Quindi credo che è proprio questo che ci piace e che voglio condividere e vogliamo condividere con voi. Non è tanto arrivare a, non solo arrivare alla scoperta ma anche proprio godersi questo processo di ascolto, di essere qui con queste piante, queste meravigliose orchidee, con altre forme di vita e avere l'onore e il privilegio di essere partecipi di questo ecosistema attivamente cercando di captare e di ricevere qualsiasi stimolo e qualsiasi utile informazione per capire meglio la loro strategia, quindi la loro ecologia. Bene, allora mi auguro di aggiornarvi al più presto, non vedo l'ora anzi di rivelarvi al più presto le prossime scoperte riguardo a questa orchidea. Alla prossima, ciao!